Senta, lei non vede una contrapposizione tra Milano e Regione Lombardia? Ieri c'è stata la protesta contro la riattivazione dell'area B, per esempio, considerata un autogol, diciamo, adesso che i mezzi pubblici rischiano di essere punti di diffusione del contagio. Il tema è non tanto di creare contrapposizioni, quanto di lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Il Comune di Milano ha valutato che l'affollamento medio dei mezzi pubblici è ancora a livelli sostenibili. C'è un problema, il problema della compatibilità tra gli orari delle scuole, soprattutto superiori, e l'affollamento dei mezzi pubblici. La Regione Lombardia deve lavorare su questo, è sua responsabilità il fatto di poter indicare all'ufficio scolastico regionale e dunque poi anche ai dirigenti scolastici uno scaglionamento degli orari delle scuole. Quindi piuttosto che criticare un'applicazione che, viste anche le condizioni ambientali dell'area di Milano, è plausibile, anche se probabilmente antipatica a molti automobilisti come la riattivazione dell'area B, che si lavori invece per decongestionare davvero i mezzi pubblici, facendo dei progetti per lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite dalle scuole.